Io sono Daniele Scarcella, ho 20 anni, mi sono trasferito a Catania per studiare scienze biologiche alla Scuola Superiore di Catania. Ho preso la possibilità di partecipare ad Amgen Scholars grazie ad una mail che ci è stata inviata dalla segreteria della Scuola Superiore di Catania. Ho inviato l'application a più istituti perché avevo la possibilità di inviarla a più istituti quest'anno. Mi hanno preso al Karolisk Institute di Stoccolma per due mesi e otto settimane in realtà di tirocinio retribuito dal 24 giugno al 16 agosto 2019. Ho avuto l'occasione di lavorare col gene di Comte che è un gene che svolge una funzione importantissima che è quella di diminuire la concentrazione di un neurotrasmettitore della dopamina soprattutto nella corteccia prefrontale e di come questo possa aver influenzato la percezione dell'assordanza, se volessimo tradurre in italiano, della loudness, degli acufeni. Il fatto di poter lavorare su un progetto che è solo tuo ti dà una carica, un entusiasmo, una passione che io veramente non ho mai provato. Sicuramente sono tornato molto più motivato di prima perché sai che c'è tanto ancora da scoprire ma non solo per costruire conoscenza che è una cosa bellissima però è veramente bello capire che quello che stai facendo può aiutare delle persone a vivere meglio e questo è uno dei motori della mia motivazione. Grazie per la visione!